Ciao a tutti cari amici del segno dello scorpione, bentrovati, eccoci qui con il vostro orosco per il mese di maggio 2022. Se vi va, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche su tutte attraverso la campanella in alto a destra. Se vi va, condividete su i vostri social, Facebook e Instagram questi video, ok? Vi ricordo che queste sono energie, sono previsioni in generale, quindi non possono valere per tutti, per quale ci sono i miei consulti privati di cartomanzia, vi lascio qui sotto tutto nel box informazione. Incominciamo nel pescare la prima carta attraverso il mio mazzo dell'oracolo del Tearoman, se volete acquistare i miei mazzi potete benissimo andarli a acquistare attraverso il mio shop online. La prima carta è caduta da sola, fidarsi dell'intuito e dell'istinto. Quindi, carta numero 38, quindi qua la carta è molto chiara. In una più situazioni che si verranno a creare durante questo mese di maggio, dovete cercare di fidarvi maggiormente della vostra, diciamo, dote intuitiva, del vostro istinto, della vostra sensibilità, che ovviamente a voi, cari amici del segno dello scorpione, non manca, ok? Quindi questo è il primo messaggio, ok? Intuito e istinto, quindi partiamo già bene. Quindi anche se dovete prendere delle decisioni oppure non sapete cosa fare, come comportarvi, mi raccomando, connettetevi dentro di voi e rispondete a queste domande cercando proprio di puntare sul vostro istinto, il vostro intuito e anche un po' il vostro fiuto, ok? E' che, diciamo, male non fa. Ma vediamo di andare avanti con i tarocchi di Doreen Virtue, vediamo cosa voglio dirvi. Questa carta poi è bellissima, quanti colori che ci sono in questa carta, eh? Mi piace proprio tanto, quando poi ho trovato questa immagine, me ne sono innamorato subito. La seconda carta è il sette di fuoco. Il sette di fuoco vi dice difendi le tue convinzioni e le tue decisioni. Non cedere, scegli le tue battaglie in modo saggio. Qua sicuramente sarete maggiormente battaglieri, sicuramente vi difenderete da, magari, tra virgolette, attacchi esterni da parte di altre persone. Difenderete non solo le vostre decisioni, ma anche le vostre convinzioni. Quindi, se siete convinti di un qualcosa, andate avanti a testa alta. Allora, fidandovi, ripeto, della vostra dote, proprio sensibile, la vostra sensibilità. Non dovete assolutamente cedere, se magari, almeno all'inizio, qualcosa non va come dovrebbe, ok? E è importante scegliere le vostre battaglie in modo saggio. Perché alcune, diciamo, battaglie e alcuni, magari, diciamo, batti vecchi che si, magari, possono venire a creare con altre persone, secondo me, secondo questa carta, questa energia, potrebbero essere evitate perché troverete, diciamo, la strada bloccata e andrete solamente a senso unico, ok? Quindi, cercate anche di capire la persona o le persone che avete di fronte a voi. E se non è nemmeno il caso di iniziare una qualche conversazione o un qualche dialogo con l'altra persona, perché vi siete accorti che l'altra persona, diciamo, vuole avere la ragione, cercate anche proprio di andar via, di non iniziare neanche, tra l'olette, questa battaglia. E questo è il messaggio che vuole darvi questo sette di fuoco, che poi il sette di fuoco è anche il sette di bastoni. Ma proseguiamo con un'altra carta dal mio oracolo delle sferi della vita. Vediamo un attimino, eh. Vediamo cosa vogliono dirvi le carte. Allora, abbiamo la carta ritardi burocratici. Quindi qua, se stavate aspettando delle risposte, in questo caso nella sfera della casa, eh, quindi attenzione focalizzate proprio su questa sfera della casa. Quindi qua potrebbero essere acquisti, vendita, affitti, eh, magari anche il fatto, magari, del bonus 110, che adesso è molto utilizzato. Qualcosa che ha a che fare anche con la concessione di un mutuo, ad esempio, tutto quello che ha a che fare con la casa, qui ci sono dei ritardi burocratici. Quindi, chiedetevi anche se è il caso, in questo senso, di cambiare agenzia, di cambiare intermediario, di cambiare magari banca, di affidarvi a un altro istituto, ok? Perché queste ritardi burocratici possono anche essere dovuti non solo a voi, ma soprattutto anche all'altra persona. Quindi o all'intermediario, in questo caso la banca o altri istituti, oppure magari all'altro, eh, magari all'acquirente che vorrebbe acquistare casa vostra, oppure voi se volete acquistare la casa di qualcun altro, ok? Quindi, durante questo mese di maggio ci possono essere questi ritardi, qualche magagna, da punti di vista proprio anche di documentazione da portare avanti per l'acquisto, l'affitto o la vendita di una casa, o anche altre sfaccettature legate proprio alla casa, ok? Quindi, questo è un altro messaggio. Ma vediamo come l'aromaterapia, quindi gli oli essenziali, possono, potrebbero aiutarvi durante questo mese. Qui vi indicherò, se avete la possibilità di acquistarlo, se lo avete già, di appunto utilizzare questo olio essenziale, e di ripetere più volte al giorno, più volte al giorno per tutto il mese di maggio, la frase che adesso vi dirò, in base anche all'olio che esce. Amici dello Scorpione, il vostro olio per maggio è l'olio di pino silvestre, che vi dice, gli alberi della terra sono i miei polmoni, respiro il prana, l'energia vitale riempie di luce ogni mia singola cellula. Qui dovete fermarvi e dovete cercare proprio di respirare, dovete imparare a respirare. Importante, quindi fate degli esercizi, come vi dice questa carta, sulla respirazione. Utilizzate anche il pino silvestre, ok? Qua ovviamente poi non posso addentrarmi nel mondo della salute, però capite un attimino anche da punto di vista fisico a che cosa potrebbe ricollegarsi questo pino silvestre. Quindi tutto ciò che ha a che fare magari con affezioni dell'apparato respiratorio, ok? Ma andiamo avanti con l'oracolo dei pensieri, che è sempre il mio oracolo. Vediamo cosa vuole dirvi questa carta. Vediamo, eh. È venuto il momento di reagire. Scaldate i motori perché è arrivato il momento di reagire ed entrare in azione. Quindi qualcosa qui si sbloccherà, qualcosa sicuramente o giungerà a voi, in una o più sfede della vostra vita, o voi andrete incontro a quella persona o a quella situazione. Dovete comunque muovervi, ok? Quindi qua, qua magari alcuni potranno fare anche un viaggio attraverso l'utilizzo della moto. Mi è venuto anche questo messaggio ulteriore. Ma vediamo ora i tarocchi delle Taroman, quindi l'ultima carta, vediamo cosa vogliono dirvi i tarocchi, eh. Qua, se volete far smuovere la situazione anche dal punto di vista proprio di mangani burocratiche relativa alla casa, dovete anche in questo caso proprio muovervi voi, perché se aspettate gli altri, campacavallo, che l'erba cresce. Capite a me. La papessa. Bellissima carta, al numero 2 degli arcani maggiori. Sicuramente la papessa è una carta di conoscenza, ed è una carta, guarda caso, della sensibilità e dell'intuizione, quindi legata proprio alla carta numero 38 del mio oracolo. La papessa è anche una carta proprio di conoscenza, andare in profondità, magari iniziare un'area di studio, approfondire qualche tematica, fare dei corsi di formazione, di aggiornamento, conoscere maggiormente voi stessi e le altre persone. comunque sia, rimarrete in uno stato ricettivo per capire i messaggi che l'universo vuole inviarvi. Quindi state maggiormente in ascolto e in connessione con l'universo. Benissimo cari amici, io vi aspetto sempre qui sul Tavon Man. Ciao a tutti e alla prossima!